Salve, mi chiamo Giorgia Meloni e do discrete possibilità di vincere alla corsa per diventare sindaco di Roma. Molti dicono che questo dipende dal fatto che Roma è una città di destra, qualcuno dice una città di estrema destra, qualcun altro dice Roma è una città fascista, termine che noi non amiamo, dice noi chi? Noi fasci naturalmente, non amiamo sentire la parola fascista perché il fascismo secondo noi non è mai esistito, secondo noi chi? Secondo noi fasci naturalmente. Ora però qual è il problema? E' che in questo momento, in questo paese sono diventati tutti da destra all'improvviso, siamo da destra noi, da destra Berlusconi, ma da destra pure Renzi, da destra pure il Movimento 5 Stelle, sono da destra tutti i giornali, e da destra pure le unità e da destra pure il fatto quotidiano, quindi giustamente l'elettore di destra in questo momento è molto confuso, io lo capisco, dice ma se io so da destra chi devo votare? Devi votare a me, guardami nell'occhi, devi votare a me, dice ma se io non so proprio da destra a destra? Sempre a me, qua. Grazie. 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 Grazie a tutti.